Ancora il cronometro ed è finita! Il Nardò ha vinto la Coppa Italia regionale d'eccellenza battendo in finale il Molfetta per 4 a 2 e staccando il biglietto per la fase nazionale. È un primo traguardo storico per la società del presidente Enzo Russo che trionfa dunque per 4 a 2 e adesso attende la finale nazionale e chiaramente le ultime sette giornate del torneo d'eccellenza. Parlano queste immagini per tutti, queste belle immagini che il nostro Antonio Pulieri ti fa vedere. Vediamo se riusciremo ad entrare sul rettangolo verde per la festa Granata. Sarà un'impresa ardua, però faremo il possibile in questo momento. Facciamo parlare queste immagini, nel frattempo cerchiamo anche di avvicinarci al rettangolo verde. Sarà un'impresa ardua, adesso stiamo in pratica sgomentando.